salve mi chiamo luisa e oggi vorrei approfondire con te il tema del collagene mantenere un bell' aspetto giovanile è un'aspirazione molto sentita da persone e colleghi e al momento è molto di tendenza oggi voglio approfondire questo tema con te cos'è il collagene e come funziona la nostra pelle e devi immaginare che i più grandi nemici della nostra pelle sono i raggi uv e i radicali liberi questi due elementi combinati tra di loro distruggono questa struttura e componenti importanti come l'elastina il collagene e l'acido ialuronico che si degradano nel tempo tra l'altro accade anche relativamente presto perché a partire dai 25 anni circa si inizia a disgregare il collagene nel corpo a partire dai 40 anni perdiamo addirittura l'uno per cento di collagene all'anno si tratta di una percentuale piuttosto elevata e naturalmente questo si manifesta anche sulla nostra pelle iniziano ad apparire le prime rughe i nostri capelli si assottigliano le unghie diventano fragili e la pelle risulta più secca ecco perché è così importante incorporare i prodotti giusti nella nostra routine di cura del viso non solo dall'esterno ma anche dall'interno perché il collagene è un componente molto importante del nostro corpo è una proteina strutturale e con una proporzione del 30 per cento è la proteina più abbondante nel nostro corpo ed è anche per questi motivi che è fondamentale assumere il collagene anche dall'interno perché insieme alle ceramidi e allo ialurone costituisce la base della nostra pelle protegge la nostra pelle dall'interno e quindi arriva molto in profondità negli strati inferiori della pelle stessa e questo permette di mantenerla radiosa giovane e soda per questo è importante rifornire regolarmente la pelle e il corpo di collagene dall'interno e dall'esterno per una bellezza dall'interno ho il prodotto perfetto per te poiché sempre più persone si affidano al collagene abbiamo trovato un modo molto efficace per agire esattamente laddove la pelle ne ha più bisogno il risultato è forever marine collagen in una pratica confezione stick si tratta di un collagene di pesce di altissima qualità e di una miscela ideale di antiossidanti essenziali per la protezione dai radicali liberi e di molti minerali e vitamine per una pelle più soda giovane e luminosa cosa contiene il nostro forever marine collagen come già detto abbiamo collagene di pesce di altissima qualità 3000 mg per stick con una biodisponibilità molto elevata ciò significa che il corpo può assorbirlo molto velocemente ci sono diversi tipi di collagene nel nostro corpo e nel nostro forever marine collagen abbiamo soprattutto peptidi collagene di tipo 1 perché è il tipo più abbondante nella pelle ed è responsabile del mantenimento dell'elasticità dell'idratazione e della compattezza della pelle nel nostro forever marine collagen sono presenti anche molti potenti antiossidanti come l'estratto di bacche di goji l'estratto di tè verde l'estratto di pepe nero e la forza della cerola inoltre contiene molto zinco biotina e vitamina a che aiutano la pelle a mantenersi idratata come pure capelli e unghie sani e cosa molto importante molta vitamina c perché la vitamina c è decisamente rilevante per la normale formazione del collagene e per finire una cosa considerevole il nostro forever marine collagen ha un sapore delizioso molto fruttato fresco e un po' aspero è un ottimo boost di collagene direttamente dallo stick monodose lo si può bere puro o mescolarlo con la propria bevanda preferita ti consiglio di assumere uno stick al giorno o al mattino o alla sera l'importante sarebbe assumerlo sempre alla stessa ora e adesso vorrei aggiungere qualche altro consiglio sul come mantenere una pelle radiosa e giovane ti suggerisco di evitare il fumo di indossare sempre una protezione solare di bere molta acqua e di seguire una dieta sana ed equilibrata con pochi zuccheri cosa rende il nostro forever collagen così speciale è stato sviluppato secondo i più alti standard scientifici e contiene la forma ideale di collagene ovvero quello proveniente dal pesce sono presenti anche molti ingredienti di alta qualità che lavorano in sinergia e sono perfettamente bilanciati la combinazione di collagene di pesce antiossidanti minerali e le giuste vitamine è molto innovativa e lo rende un prodotto davvero unico sul mercato tra l'altro forever marine collagen ha vinto un premio nella categoria prodotti di bellezza innovativi ai globe makeup awards nel regno unito la cosa migliore è che dopo circa 30 giorni di assunzione di marine collagen non solo sentirai ma vedrai i risultati è un prodotto super pratico puoi portare la confezione stick con te ovunque idrata la pelle e la aiuta ad ottenere un bel colorito il nostro forever marine collagen è un prodotto di punta ed è entrato rapidamente nella top 10 degli articoli più venduti in germania austria e svizzera a chi ha dato il nostro forever marine collagen a donne e uomini che tengono al proprio aspetto a partire dai 25 anni e naturalmente per le persone attive interessate all'anti aging e anche ai best ager ma anche alle attività legate alla bellezza come centri estetici saloni di parrucchieri studi di wellness dermatologi e naturopati quindi come vedi il campo di applicazione che possiamo raggiungere davvero molto ampio riassumiamo ancora brevemente i vantaggi di forever marine collagen abbiamo un prodotto innovativo con ingredienti di grande valore del collagene to go dunque un prodotto molto pratico e come tutti sappiamo la bellezza viene dall'interno ecco quindi un prodotto che puoi facilmente integrare nella tua routine quotidiana di cura del viso ti auguro tante soddisfazioni con il tuo forever marine collagen di cura del viso ti auguro di più Grazie a tutti